Ringraziamo il Ministro per la presenza. Il Ministro però non dica di aver partecipato ai lavori. Noi avremmo voluto che lei partecipasse realmente ai lavori. Non basta arrivare e intervenire a discussione e a votazione degli ammendamenti già avvenuta. E credo che sia inaccettabile, pur con tutto il rispetto che noi abbiamo per lei, sia nei confronti della sua figura, sia nei confronti di quello che ha fatto precedentemente, però credo che sia inaccettabile, dopo tutto quello che abbiamo assistito in quest'Aula, che il Ministro venga a dire che nei confronti di alcuni reati di particolare allarme sociale, tra cui lo stalking, ci sarà rigore. Se si voleva avere rigore bastava accogliere gli ammendamenti di buonsenso che sono stati presentati dalle forze politiche di opposizione, la Lega in primis. Grazie. Questo è un atteggiamento da coda di paglia e non lo possiamo accettare. Grazie. Ha esaurito il suo tempo.